Una proposta per modificare ed integrare la legge regionale del 2020 sulla promozione delle istituzioni della comunità energetica e da fonte rinnovabili. E' questo quello che il consigliere regionale Salvatore Cividillo ha depositato a Palazzo Campanella, con lo scopo, si legge nella nota, di adeguare i contenuti al mutuato ordinamento vigente. La proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutuato quadro ordinamentale, prevedendo in particolare diverse modifiche. Tra queste la sostituzione del titolo che indichi in maniera più incisiva che la legge regionale è volta alla promozione o lo sviluppo sostenibile di un sistema regionale di comunità energetica rinnovabile in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica. Poi l'istituzione e la disciplina di un tavolo tecnico permanente facilitatore di comunità energetiche con funzioni consuntive, propositive e di monitoraggio. Infine, tra le ulteriori modifiche avanzate, c'è anche la previsione in capo al CER della redizione del bilancio di sostenibilità, secondo i principi di European Label of Governance Excellence, che rappresenta il veicolo attraverso il quale gli amministratori possono comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita dell'interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto invece operativamente realizzato. L'obiettivo della regione Calabria è quello di intraprendere ogni iniziativa volta all'attuazione della transizione energetica, quale nuove modello di organizzazione sociale basato su una produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili.